Ma si sta battendo, morirà nessuno! No, è finita, perché qui c'è l'Etna che sta scoppiando Molto il mare qui, non c'è l'amore Tra l'altro, se siamo i primi a pubblicare queste robe, queste poste, giusto? Poi non ci potranno dire gli altri, l'abbiamo capito, ma stai ruttando, perché siamo i primi Ma del film no! Quello è tutto, era fantastico! Ma proprio! Aiuto! Aiuto! Ciao! 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 Ciao!